Cos'è l'alcolismo o demenza? La demenza d'alcolismo è un disturbo neurologico che si sviluppa nelle persone che bevono alti volumi di alcol in un periodo prolungato di tempo. Conosciuto anche come demenza d'alcol o sindrome di Wernicke-Korsakov, questa condizione può essere trattata se viene catturata nelle fasi iniziali, invertendo parte del danno e consentendo il paziente di condurre una vita normale. Mentre molte persone associano la demenza all'invecchiamento, le persone possono sviluppare demenza d'alcolismo già a partire dai 30 anni e i sintomi di disturbi cognitivi nelle persone di questa età potrebbero essere segnali di demenza precoce. Le persone sviluppano demenza-alcolismo a causa di carenze vitaminiche, in particolare bassi livelli di tiamina. Questa condizione può anche svilupparsi in persone con malnutrizione. Il cervello si basa su nutrienti abbondanti per funzionare ai bassi livelli, nel tempo, compromettono la funzione cognitiva. Se la condizione viene catturata e il paziente viene svezzato dall'alcol e fornito di un'alimentazione adeguata, inclusa la supplementazione di vitamine, il paziente può recuperare molte capacità cognitive. I sintomi della demenza-alcolista possono includere cambiamenti comportamentali, lacune nella memoria, incapacità di acquisire nuove informazioni e un'andatura treballante. I pazienti possono anche sviluppare tremori e tendono a provare confusione. Possono fare repetutamente le stesse domande e possono diventare agitati quando vengono ricordati che hanno già chiesto. Come con altre forme di demenza, i cambiamenti al cervello possono anche essere associati alla depressione, in quanto i pazienti possono riconoscere che qualcosa non va e provare angoscia e tensione emotiva. Affinché la demenza-alcolismo entri, la gente di solito ha bisogno di bere da 4 o 6 bevande forti ogni giorno per un lungo periodo. Le persone che bevono a livelli più bassi sono meno a rischio, come lo sono le persone che sperimentano una buffata di alcol e quindi tornano a sane abitudini di consumo di alcol. Una persona che si blocca per una settimana può essere a rischio di altre complicazioni di salute, ma il danno al cervello coinvolto nella demenza-alcolista richiede tempo per insediarsi. La malnutrizione è un problema comune per gli alcolisti e oltre a causare demenza-alcolismo, può anche portare ad altri problemi di salute. I pazienti possono sperimentare perdita di capelli, danni agli organi e debolezza fisica generalizzata. Nel tempo, queste condizioni possono diventare molto gravi. Le complicazioni dell'alcolismo possono essere fatali in alcuni casi e in altri causeranno problemi di salute permanenti per il paziente, anche se un programma di cessazione dell'abitudine al consumo ha successo. Intervenire precocemente quando si sviluppa l'alcolismo può aumentare le possibilità di un recupero completo per il paziente.